Benvenuti e benvenuti a Crime Out, casi di cronaca nera raccontati da persone autistiche. Ciao, io sono Erika. Ciao, io sono Silvia. Ciao, io sono il regista Mattia. Ciao a tutti. Ciao. Siamo giunti al terzo episodio sul caso Parolisi, che noi abbiamo chiamato in memoria di Melania. Non dici niente sul fatto che mi sono inserito nella vostra presentazione? Non l'avete ancora fatto? Eh beh, certo, sei oramai una di due. Comunque, premessina, stasera siamo provati, abbiamo avuto un bel po' di problemi tecnici, per cui anche dovevamo iniziare un'ora fa, stiamo iniziando adesso. Quindi scusateci anticipatamente se ci sentirete un po' stanchi e ci perdiamo un po'. Comunque, siamo alla scorsa puntata, se non avete sentito le altre andate a risentirle e poi ci sentiamo qua, se no non capite niente. Siamo arrivati a parlare di Ludovica, cioè la donna con la quale si era scoperto dopo pochissimo tempo, può dire il vero, che il pane e volpe Parolisi, che aveva cercato di… non poteva, era come… a quel punto era come fermare un… no? Sì, 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 beh, sì. Una diga che sta crepata con un tappo di sughero, cioè tappi di sughero quella. E niente, quindi era la donna con cui intratteneva una relazione extracognugale. Vai Erika. Esatto, siamo rimasti proprio nel momento di Ludovica e abbiamo scoperto appunto che tra i due esisteva questa tresca, esisteva questa storia e la storia tra Salvatore e Ludovica è iniziata addirittura a settembre del 2009 ed è continuata poi effettivamente fino a maggio del 2011, quindi per un sacco di tempo, nonostante la scomparsa di Melania. E la loro è stata una relazione molto passionale, soprattutto io oserei dire costellata da tutta una serie di menzogne da parte di Salvatore. Chi è Ludovica? Ludovica Perrone è originaria di Sabaudia, in provincia di Latina, ha 27 anni, è una bella ragazza, bionda, occhi verdi, di buona famiglia, laureata alla Sapienza di Roma e i due da che inizialmente hanno questo flirt, perché comunque lei è un'allieva di Salvatore, loro inizialmente hanno questo flirt e finiscono per lasciarsi prendere e poi lasciarsi travolgere. Una delle cose che più mi ha dato fattiglio scoprire è che Melania tra l'altro resta incinta nell'estate del 2009 e in quel periodo si trasferisce dai suoi per farsi accudire dalla madre fino al momento del parto e in questo frangente Salvatore rimane ad Ascoli da solo e conosce Ludovica, questa soldatessa nella caserma dove lui fa l'estruttore. Quindi loro dove si conoscono quando lui rimane da solo fondamentalmente. Perché è incinta. Sì, sì, capito? Cioè, orrore, che schifo. Essendo lei lontano da casa, dalla sua casa natia, perché appunto, ricordiamo, si trovavano nelle Marche per causa lavoro di lui, sappiamo che lei a Folignano praticamente conosceva poca gente e quindi non lavorava, si occupava della famiglia e poi quando è nata, della bambina. Nel periodo della gravidanza posso capire che magari invece che stare solo tutto il giorno vado, torno dalla mia famiglia. Esatto, infatti. E poi nell'autunno del 2009 nasce Vittoria, la bambina di Melania e Salvatore. Melania torna a casa e Salvatore e Ludovica, che ormai erano amanti, addirittura affittano un monolocale per vedersi di nascosto. Cioè, che schifo, scusatemi se io lo devo dire, mi fa veramente orrore questa situazione. Sono d'accordo. Sì, davvero. Cioè, aveva appena partorito la loro bambina e lui, proprio in quel momento, decide di farsi la storia con una allieva. Ludovica, ad un certo punto, addirittura finisce il periodo di addestramento e si deve trasferire inizialmente a Roma, poi a Lecce, insomma, fa un po' di viaggi. Però, nonostante questo, la loro relazione prosegue. Salvatore, naturalmente, si è anche munito di un cellulare apposito per sentire Ludovica, che è il cellulare con cui si è fatto sgamare, no? E addirittura poi questo telefono verrà rinvenuto, buttato tra le frasche in un parco, quindi lui se ne libererà malamente e verrà ritrovato. E con questo cellulare, appunto, i due si sentono costantemente e si mandano un sacco di messaggi e io ho trascritto un po' di messaggi che loro si sono inviati. Si possono dire? Sì, perché sono contenuti espliciti. No, non credo siano espliciti. Non credo, no. Ne abbiamo parlato precedentemente perché se ne mandavano tantissimi e sono proprio messaggi che Salvatore chiede a lei di cancellare. E secondo me leggerli è importante, giusto, per renderci conto di quale fosse il tenore della loro relazione a un certo punto della piega abbastanza tossica che avesse preso tutto. E quindi io procederei a leggerveli. Procedi, procedi. Il 3 aprile Salvatore scrive a Ludovica Buongiorno amoruccio, oggi non ho potuto chiamarti. Sono andato pure a correre ma con me c'era anche il padre, il padre di Melania, che voleva parlare con me. Ludovica, che è presa molto peggio di lui, gli risponde Se ne devi andare, punto, non ci sono alternative. Poi cos'è? Mi puoi chiamare il sabato perché vai a lavarti la macchina o a farti i capelli? Poi domenica risali con tutta la Sacra Famiglia? E poi via lunedì si ricomincia con la relazione telefonica 8 16 30, ma non ti fai un po' schifo da solo? Cioè, sì, è evidente che lo dobbiamo... Perizzo! Sì, esatto. Lei è incavolatissima, veramente. È stufa Marcia di fare l'amante di Salvatore. Salvatore, chiaramente dobbiamo entrare nell'ottica che in tutto il periodo di relazione le abbia raccontato un stracco di balle sul fatto che avrebbe lasciato... La moglie... Esatto. È un cliché, sono cliché alla fine, però se sono cliché è perché evidentemente succede spessissimo. Esatto. Tra altri messaggi che Ludovica scrive a Salvatore è devi farti le tue dannate valigie e andartene per cominciare ad avviare la cosa, senza se e senza ma. Altro tempo... Sono passati altri due anni, Salvatore, direi che sono anche troppi. Devo per caso rielencare tutte le persone che si sono lasciate o separate in pochi mesi? No, dai, non mi sembra il caso. Io spero che tu già stia parlando e stia già chiarendo tutto. Poi se vuoi stare con me bene, altrimenti io non voglio più sentire la frase ci vuole ancora un pochino di pazienza. Non esiste, non devi ammazzare nessuno, devi solo lasciare una persona che non ami e con cui non stai più bene da una vita. Non è così complicato da far capire, sempre se hai il carattere per farlo ovviamente. Non mi chiedere di soffrire ancora un pochino o altro, perché io rispetto per me stessa, fidati, non lo perdo. E tu, mercoledì sera, massimo giovedì mattina, sei qui? Ho la storia, la chiudo io, senza altre proroghe. Non mi costringerà a dimostrarti che su questo punto io non ho mai scherzato. E Parolisi... Perché qui abbiamo delineato chiaramente che lei è stanca. Sì no, più chiaro di così non poteva scriverlo. C'è proprio tutto, c'è l'ultimatum, c'è l'esasperazione, sentire quella frase... Scusate. Vai 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 vai. Sono sempre più convinto che Parolisi stia scavando la fossa da solo in pratica. Sempre, sì sì, assolutamente. Infatti se l'ha scavato tantissimo. Questa è la famosa... Tentando di uscire si scava ancora di più, tra l'altro. Esatto. Sempre di più. E questa viene detta a imbuto, a collo di bottiglia, che poi nel suo caso viene proprio usato un'espressione simile. Sì. Sì sì, cioè situazione imbuto in cui appunto, che poi è il corrispettivo di scavarsi la fossa, o meglio, questi messaggi c'erano, nel senso sono stati recuperati, quindi sono stati scritti, aiuto a capire proprio la situazione, ma in maniera cristallina, non ci sono dubbi su questo. Poi ci saranno altre prove che dimostreranno la logica ultimatum e l'imbuto in cui si era andato a ficcare. Allora, giusto per contestualizzare la situazione, non che questa Lodovica avesse delle pretese allucinanti o che, era lui che fondamentalmente l'aveva, cioè erano fidanzati, nel vero senso del termine. Certo, certo. Lui le diceva che avrebbe lasciato Melania al più presto e ogni volta comunque rimandava con una scusa diversa e questa ragazza dopo un tot si è stancata semplicemente. Sì, sì, dico, è cristallino il messaggio che le ha mandato, che le ha mandato. Esatto, sì, lei è stanca. Cioè, quando dice questa, non voglio più sentire questa frase, quindi era la frase che lui ripeteva di più. Esatto. Aspetta ancora un pochino, pazienta, sì, paziente, tra poco risolvo, adesso la risolvo. Esatto. E lui, infatti, al messaggio che abbiamo letto le risponde, amoruccio, ma non devi stare in ansia, come se lei fosse semplicemente in ansia, lei incavolata nera. In modo per dire stai calma. Sì, esatto. In modo per dire non rompere i ciglioni. Sì, insomma. Io ho quasi risolto tutto e ho trovato anche un accordo con lei. Le cose andranno per il verso giusto. Mi serve un altro po' di tempo, perché di certo non riuscirò ad essere lì da te entro una settimana, ma ti garantisco che ormai è fatta, possiamo presto coronare i nostri sogni. Come posso ti chiamo, scusami se in questi giorni non ho potuto, ma ti racconto tutto al telefono. Poi ti amo, lo sai, non perdere la fiducia in me, manca poco, ti amo. E Ludovica, che a questo punto ormai non crede più a una sola parola, sclera e gli risponde ma io non ci credo più, ma basta, mi avevi giurato che saresti venuto, che ci saremmo visti, considerando che sono due mesi che non ci vediamo, sei una M, perché io sto qui a piangere e tu continui a sbattertene e a pensare alle cose tue, io ti odio immensamente per quello che sto soffrendo a causa tua. Avevo detto ai miei che non sarei salita per questo ponte lungo, perché sicuramente ci saresti stato tu e invece mi toccherà tornare perché io da sola qui come un cane per quattro giorni non ci sto a fare l'ennesima figura, tanto tu continui per la tua strada, sono dieci giorni che neanche ci sentiamo e vedi non dirmi che mi chiami, me lo avevi già detto dieci giorni fa, sei una M di merda, scusatemi non volevo dirlo ma mi è svolgito, di uomo e basta. Questo è stato il miglior fail che io abbia mai sentito, fatelo dire. Sei una M di uomo, ma l'ho detto. Eh vabbè, non si poteva evitare. No, no, perché comunque dentro di me lo dovevo dire anch'io dai. Ma chi vuoi prendere per i fondelli? Ma quali sogni? Ma cosa cacchio vuoi coronare la nostra storia? La nostra storia è uno schifo, sei stato solo capace di darmi il minimo. Cosa ti costava andartene? Cosa rimani a fare? Cosa risolvi in un fine settimana? Cosa c'è ancora da dire? Dobbiamo ancora parlare, ma sul serio? Se decidi di separarti ci pensano di avvocati ad avviare le pratiche, ma tu invece no, continui a stare là. Mi fai schifo perché sei stato il peggiore di tutti, almeno con gli altri, lo sapevo che tipo di ragazzi erano, ma tu, tu ti sei fatto conoscere per ciò che in realtà non sei. Melania si è operata all'ernia giovedì e tu dopo una settimana non te ne puoi andare. La verità è che tu non metti da parte niente di quello che vuoi fare per venire un attimo incontro a me dopo tutto quello che sto passando. E a questo punto la situazione direi che è molto chiara e lampante, come dicevi anche tu Silvia, non c'è molto altro da dire, no? E quando gli inquirenti leggono questi messaggi vogliono immediatamente interrogarla e tra l'altro Lodovica quando verrà interrogata racconterà che a gennaio Melania poi scopre di questa storia e la scopre perché Salvatore aveva chiamato Melania con il telefono con cui parlava con lei e quindi Melania aveva unito i punti, aveva capito di questa trezza, cioè lui praticamente usava questo telefono, questo numero falso per chiamare Lodovica e un bel giorno telefona Melania con quel numero, io me la immagino Melania che ha risposto al telefono, ma con che numero mi stai chiamando? E lui che ha detto ma questo è il mio numero? E lei no, non è il tuo numero, questo è un altro numero. Ah beh, mi immagino quale scusa si sia inventato però ormai era troppo tardi e Melania ha scoperto così che lui aveva un altro numero con cui poi si faceva gli affari suoi con questa Lodovica. Il più grande pirla del crime. Sì, sì, assolutamente. E perché tutto sto litigio? Tra l'altro Salvatore aveva promesso a Lodovica che l'avrebbe raggiunta ad Amalfi a Pasqua. E addirittura... Aspetta, infatti ho una domanda Erika. Sì. Questi messaggi che hai letto, a che periodo si riferiscono? Cioè quando sono stati iscritti? Eh, sono l'aprile. Quindi pochi giorni prima. Sì, il 3 aprile e poi non so esattamente la data di ogni singolo messaggio, però il primo che ti ho letto è del 3 per esempio, quindi siamo in quel periodo lì. Poco prima. Perché poi la sparizione di Melania, ricordiamolo, è avvenuta il giorno, tu lo sai. Eh, me l'ero scritto il giorno preciso adesso. Sì, comunque siamo lì, siamo in quel periodo. Infatti poi tutto è avvenuto, è precipitato molto velocemente. Tra l'altro in questa situazione il padre di Ludovica aveva anche prenotato una camera per lui. Cioè, loro due si sarebbero dovuti vedere a Pasqua. Per lui Salvatore. Sì, sì, per Salvatore. E Ludovica aveva parlato ai suoi genitori di questo ragazzo. Cioè, fondamentalmente la loro era una storia sì in accosta, però era anche così tanto avviata che Ludovica voleva fargli conoscere i suoi. Perché Ludovica poi ha capito che sono stati insieme, realmente. No, poi si stanca a un certo punto. Anche perché se tu dici, ho detto ai miei di te, no? Esatto. I miei, ok. E lì, se vedi, magari lei avrà pensato, se a lui sta bene questa cosa e non fa storie, allora, cioè, era come una prova, no? Esatto. Sulla sua attendibilità. Fallitissima. Sì, appunto. E questo è sempre la logica del collo di bottiglia. Cioè, Ludovica, dal suo punto di vista, dice, faccio, testo quanto è con le sue parole, quindi se crederci o no, e quindi dico ai miei di questa cosa. E lo dico a lui, quindi lui non poteva non sapere che i suoi genitori di Ludovica sapessero di loro. Lui lo sapeva. Esatto. Lo sapeva benissimo. Quindi partiamo da questa prima cosa qua. Sì, sì. A quel punto, io mi metto nei panni di lei, no? Da come sono andate le cose. A quel punto lui non mi fa storie perché me lo sanno e quindi vado un po' più là. Quindi gli propongo di incontrare i miei. E lui avrà risposto, sì certo, ma anche domani, no? Perché presentarlo in suoi non mi pare una gran... Ma infatti... Non è stato intelligentissimo. Ma infatti è un fesso, è un fesso totale, dai. Anche lei dice... Cioè, perché lei sapeva che lui era sposato, aveva pure una figlia. Perché lo presenta subito? Aspetta di avere almeno una storia stabile, se proprio devi, poi glielo presenti. Eh, ma è per quello che anche Erika diceva che era una relazione tossica quella fra Salvatore e Ludovica. Quello che ho appena spiegato, cioè il fatto che lei probabilmente faceva questi test, queste prove, prendendole un po' alla larga, no? Però se uno mi dice, lascerò mia moglie, cioè probabilmente che ho la figlia e vabbè ci accorderemo per... io farò al weekend, ecco... cioè... le avrà messa giù facile, tra virgolette, no? Lei, Ludovica, per testare la credibilità, ha fatto dei gesti, appunto, che magari Mattia a te possono sembrare stupidi. Nel senso, visti dal di fuori sicuramente lo sono, ma nella logica, appunto, nella relazione tossica in cui erano, probabilmente, lei faceva... questi erano dei test per testare la sua credibilità, perché poi di fondo lei non gli credeva, perché con i fatti lui si smentiva. Probabilmente lui gli diceva, sì, sì, lascerò mia moglie con mia figlia, ci vedremo, insomma, la vedrò comunque. Beh, l'abbiamo visto anche nei messaggi, no? Lui continuava a dire, abbiamo avviato le cose, io con lei ci ho parlato la verità, era altra. Lui non aveva mai parlato con Melania. Sì, infatti. Il fatto di coinvolgere i suoi era per testare quanto lui fosse affidabile. Esatto, perché se poi a quel punto, se lei le avesse detto, voglio presentarti i miei, e lui abbia essere aiuto dicendo, no, ma cosa dici, dobbiamo mantenerci segreti, eccetera, non era più credibile quando poi se le avesse hai detto, eh, ho quasi fatto. Sì, certo. Cioè, sono proprio, quindi doveva, o comunque si mostrava come, sì, sì, non ho problemi se mi presenti i tuoi, no? Quindi Ludovico ci chiedeva, perché dice, se addirittura, lasci che io coinvolga, i miei, nonostante appunto sia una storia che i miei sanno, anche i miei sanno che tu sei sposato, eccetera, quindi per dargli anche una sorta di, appunto, di ufficialità. Certo, però purtroppo la verità è che Salvatore quel 19 aprile, poi per Pasqua deve partire con la famiglia per andare in vacanza e quindi inevitabilmente pacca Ludovica. Cioè, non ci sono storie, perché Salvatore raccontava soltanto palle, continuamente. Cioè, ha potuto tenere in piedi questa storia semplicemente perché per un po' Ludovica ci credeva, però poi a un certo punto la situazione è degenerata, per forza. Sì, anche dai messaggi che hai letto, Ludovica si capisce che oramai non ci credeva più neanche lei, però proprio perché erano in questo mood tossico, lei probabilmente non riusciva a mollarlo. Anche se oramai non era più nella fase del love bombing, quindi si capiva anche lei che era bella disincantata, però ci sperava sempre, se no non organizzava questa vacanza che poi lui ha paccato, cioè dopo quella, ciao. Sì, esatto. Se no lo mandava a quel paese, basta. Invece si vede che ci stava sotto ancora più. Si arrabbiava, ecco, però rimaneva lì. Comunque, io tornerei un attimo indietro. Cioè, la mattina dopo la scomparsa di Melania, abbiamo raccontato della telefonata che hanno Salvatore e Ludovica, quella telefonata famosa verso le 12. Lui va in caserma e quel giorno racconta ai suoi colleghi che i carabinieri gli avrebbero consigliato di allontanarsi da Colle San Marco per non incasinare le ricerche con i cani molecolari. Anche questa è una balla, ragazzi, nessuno gli ha mai detto questo. I colleghi di Salvatore però vogliono essergli d'aiuto, vogliono organizzarsi per cercare anche loro Melania, quindi si propongono di aiutarlo, però Salvatore rifiuta questa loro proposta, usando sempre la scusa dei cani, dice che più persone ci sarebbero state lì sul luogo e più i cani avrebbero potuto confondersi e niente, che quindi non fosse una buona idea. Anche perché lui sapeva benissimo dove c'erano le sue tracce, quindi voleva che i cani, o comunque le sue tracce si trovassero solo in un punto, per come si era costruita lui. Sì. A questo punto Salvatore tranquillizza i suoi colleghi e gli dice addirittura che sicuramente Melania si fosse allontanata per fargli un dispetto, perché lui ha iniziato a raccontare questa cosa, l'ha detta a Ludovica, l'ha detta ai colleghi, se ne sarà andata perché è arrabbiata con me. Cioè, ci rendiamo conto di che resta di personaggio fosse? Veramente basso. Sì, sì, veramente, proprio stiamo taschiando il fondo. E tra le altre cose chiede ai colleghi di non raccontare a nessuno che durante l'orario dei servizi lui fosse spesso al telefono, perché lui effettivamente era abitudinario nello stare tanto al telefono, negli orari di lavoro, si chiudeva nello studio e faceva i cavoli suoi fondamentalmente. Sì, chiamava Ludovica o altro. E già questo te lo rende odioso perché… Sì, sì, sì. Operando il militare, quindi lo pagavamo noi con le nostre tasse. Sì, ma poi io quando ho sentito del fatto che proprio nel momento in cui la moglie fosse andata dalla mamma mentre era incinta e che lui rimasto da solo a casa avesse iniziato stata resca con una tipa nel momento proprio in cui la sua donna fosse a farsi curare un po' dalla mamma durante la gravidanza. No, li ho provato uno schifo così grosso che non ve lo so descrivere. Comunque, dopo aver detto sta cosa appunto ai suoi colleghi, non raccontate che io me ne sto al telefono, riva nel suo studio e in quel momento li cancella il profilo fake vecio alpino e tutte le chat con Ludovica. Alle 15.10 del giorno dopo, Salvatore chiama Rosa Immacolata, che è un'amica di lunghissima data di Melania, e la chiama dicendole queste testuali parole che mi sono riportata. Le dice, tu lo sai che ho fatto tante opere buone per Mela, l'ho sempre amata, le avevo già comprato il regalo per l'anniversario di matrimonio, sai questi mi stanno facendo un sacco di domande, tu però già lo sai quanto ci amavamo, questi mi stanno torturando, mi stanno riempiendo di domande. Povero stello, veramente. Eh, poverino, sì, mamma mia, che stress, tutte queste domande. Eh, poverino. Però tu lo sai che ci amiamo, mamma che finto. Sì, sì, sì. E siamo sempre lì in quel periodo temporale, nel frattempo a Colle San Marco c'è sempre il nostro mitico Pier Giorgio, il cane molecolare che sta continuando in perterrito a compiere però il tragitto che lo porta sempre al monumento dei caduti. E quindi per chi è lì che sta indagando diventa abbastanza chiaro che Melania fosse perlomeno stata lì, no? E poi, appunto, ricordiamoci che Salvatore aveva detto che loro due in quel luogo avevano fatto un picnic o comunque che c'erano stati. Però, niente, non si riesce a venirne a capo a capire dove diavolo fosse andata dopo. La mattina, martedì 20... E soprattutto, ricordiamolo, se erano tracce di quel giorno o di un altro giorno. Esatto, esatto. La mattina, martedì 20 aprile, Salvatore alle 8.38 riceve una chiamata dalla sorella Lucia e i due hanno una conversazione che dura circa quattro minuti. La cella che Salvatore aggancia durante questa chiamata è nei pressi della caserma Clementi. Dopodiché, Salvatore va dal fratello di Melania e insieme si dirigono a Colle San Marco. Ecco, come abbiamo detto, sta lì ben poco. Alle 9.30 il fratello di Melania si accorge che Salvatore si è, puff, vaporizzato e, niente, pensa che si è andato a Folignano a prendere Vittoria per portarla poi in caserma. Però di Salvatore in quelle zone lì non c'è traccia fino alle 10.35. E a quell'ora Salvatore riceve una chiamata dall'amico Raffaele Paciolla e appunto aggancia sempre una cella vicina a Folignano. E c'è questo buco che va dalle 9.30 alle 10.35 in cui non si sa che cosa abbia fatto. Alle 11.15, io temporalmente vi ricordo che adesso siamo un attimo tornati indietro dopo aver raccontato di Ludovica, quindi siamo al giorno dopo la scomparsa di Melania, presso l'abitazione di Salvatore arriva la squadra del capitano Tortona che assieme a due marescialli si stanno occupando della scomparsa di Melania. E loro tre cosa sono lì a fare? Sono lì per perquisire e controllare l'appartamento di Parolisi, il garage, insomma, per vedere se trovano delle tracce. E a quanto pare in questo frangente Salvatore è molto gioviale e collaborativo con loro. Cioè consente che vengano ispezionate le stanze, gli armadi, i cassetti e tutto quanto. Parla loro di Melania, parla della bambina, addirittura gli mostra delle foto del battesimo, cioè proprio tranquillo. E sì, lui è serenissimo. E tra l'altro tra le foto che mostra a questi marescialli e a questo capitano ce n'è anche una in cui è con Ludovica, cioè proprio lui spacciatissimo, tanto ancora nessuno lo sapeva, quindi. Non so se aveva capito di essere spacciato o se si sentiva talmente forte da poter far vedere anche tutto senza essere scoperto. Ma secondo me è cosciente a livelli estremi, gliel'ha fatta vedere perché tanto pensava che non l'avrebbe scoperto. Di stregare, sì. Mi ricordo un po' di quando, con il mio primo canale, stavo facendo un video sui video più strani che avevo usato nella galleria, ho fatto per sbaglio vedere un video dove c'era la mia faccia, e tipo dicendo, ah questo era bello, e poi ah no no, questo no. E sono andato avanti. Riferendomi allo stesso video, mi ricorda un po' questa situazione, easter egg, seguitemi su Tia Productions, andate avanti. Sì, sì, seguitelo, gli intermedi pubblicitari. Comunque, c'è sempre questo trolley, no? C'è questo Raffaele Paciola, l'amico di Salvatore, che aveva parlato agli inquirenti di questa valigia. Non era sicuro di che colore fosse, però era sicuro che fosse molto grande, che era talmente grande da prendere tutto il baule. E c'era anche il padre di Melania, no? Che aveva visto questo famoso trolley di cui avevamo parlato. Però non lo trovano, cioè non lo trovano nel maresciallo, nessuno trova questo trolley. All'inizio, quando, proprio durante i primi momenti nella scomparsa di Melania, i carabinieri l'avevano visto, questo trolley, ma si erano semplicemente limitati a chiedere a Salvatore cosa contenesse, senza aprirlo. E quando a Salvatore gli è stata posta la domanda, lui aveva risposto che dentro c'erano dei vestiti che poi sarebbero serviti per una vacanza, insomma, vesuviana dai suoceri. E che perché dovevano partire il giorno dopo. Però ecco, lì nessuno si è assicurato di aprirlo. Cioè nel momento in cui si sono trovati davanti sto trolley poi sparito, nessuno l'ha aperto. E quindi, niente, ritorniamo al discorso di prima, sto trolley ragazzi, non sapremo mai cosa contenesse davvero. E tra l'altro, sempre in tema trolley, il 7 luglio, quindi dopo un bel po' di tempo, vengono effettuate due perquisizioni, sia dai genitori di Salvatore, che dai genitori di Melania, sempre per cercarlo, ma non si trova. Troveranno poi una borsa, una valigia con dei vestiti di Melania, però del trolley nessuna traccia. Quindi, adesso c'è un momento importante. Siamo al 20 aprile, due giorni dopo la scomparsa di Melania. Alle 14.48 arriva una telefonata, un uomo chiama il 112. E quest'uomo specifica di voler rimanere anonimo. La chiamata è effettuata da Piazza San Francesco a Teramo, da una cabina pubblica, e l'accento che quest'uomo ha è quello di una persona del luogo. E quest'uomo dice che mentre stava facendo una camminata, cercando funghi, a ripe di Civitella, ha visto un corpo per terra, proprio dietro al chiosco della Pineta. E qui tutti si preoccupano. Quindi a Civitella del Tronto, di conseguenza, ci si attiva immediatamente, e i carabinieri si dirigono nel luogo indicato dall'uomo, che è chiamato Bosco delle Cavernette. E' una zona che non è vicinissima a Colle San Marco. E' tra i 10 e i 20 chilometri. Non so se tu lo sai di preciso, Silvia, quanto lontana è. No, ma così preciso no, ma mi ricordo anche io così. 14? I 10 e i 20, sì. Comunque una strada in 10 minuti non sono mai trafficate. Sulla telefonata anonima che arriva, poi ce ne sarebbe anche da dire. L'hanno rivoltata come un calzino, anche quella telefonata. Se vuoi dire, le tue. Beh, intanto risenti, mi spiace che la tecnologia stasera purtroppo non ci fa... non ci dà la possibilità di sentire audio. Però, se vi capita, comunque si troverete. Sembra che quello che ha detto sia una frase preparata. Cioè, dà l'impressione che lui non... che quella persona, a me personalmente, non conosce i luoghi di cui parla, ma che è stata imbeccata da qualcuno. dai, fa la tussa telefonata, eccetera. Quindi, la persona che ha parlato, secondo me, non è la stessa che ha visto. Ma una terza persona ha visto e ha detto a questa persona di fare questa chiamata e probabilmente era lì di fianco anche quando ha fatto la chiamata. ci sta. L'abbiamo fatta, eh, sì. Beh, una cosa che a me non torna, per esempio, di questa chiamata è che quest'uomo avesse detto di essere andato a fare funghi. Però cosa vai a fare funghi a aprile? Beh, già che comunque fai una telefonata... cioè, se hai visto una cosa... Allora, da una parte posso capire che vuoi segnalarlo per coscienza, ovviamente, però non vuoi essere coinvolto perché non vuoi avere niente a che fare con polizia né niente. Sì, quello ci sta. No? E quindi ci sta che tu pensi vado a fare una chiamata da una cabina pubblica e non dico chi sono. Sì. Non mi identifico, poi detto quello che dovevo dire metto giù il telefono. Bom. E poi prendo un treno e quindi prova a venire a capire da dove ho chiamato anche se arriva qualcuno io ho già preso un treno e chissà dove sono andato, no? Sì. Era in una stazione. Quindi da questa telefonata e dal luogo in cui è stata fatta possiamo ipotizzare un po' di situazioni. Sì. Per cui, ecco, sembra tutto fatto apposta per non volersi proprio far riconoscere ma talmente eclatante che pensi che sia anche un po' costruito o barra voluto. Sì, capisco cosa intendi. Me ne vado un po' in complottismo con questa telefonata, sono sincera. Sì, sì, ci sta. È una cosa che non mi... Perché se avesse trovato veramente un cercatore di funghi mi vien da pensare che avrebbe... Magari avrebbe, prima di dirlo alla polizia, l'avrebbe detto a un amico o a qualcuno, a un familiare e poi cioè avesse cercato prima, non so, una sorta di supporto se non aveva il coraggio di chiamare subito immediatamente cosa che uno pensa la prima cosa che faccio se vedo una cosa che sembra un corpo chiamo subito la polizia o l'ambulanza, no? Sì, sì. La chiamo dopo che vado alla stazione di... cioè dopo che ho fatto a funghi ci ho pensato un giorno e poi vado alla stazione di teramo e... Sì, infatti... Non riusciamo a farla sentire però anche tu, Mattia, se hai la possibilità poi vatti a sentire questa chiamata perché è emblematica, secondo me. Poi quando gli chiedono ma lei chi è? Scusi, perché chiaramente i carabinieri vogliono sapere. Lui, eh, no, vabbè, butta giù. Sì, butta giù proprio subito. Mette giù. Sì. Sì. Comunque c'è un'altra casualità riguardo al luogo in cui è stato trovato questo corpo e non vi ho ancora detto di chi è questo corpo perché comunque per ora si parla soltanto di un corpo e la casualità è che il reggimento di Salvatore in questi luoghi quindi al bosco delle casermette ha lì il campo base delle esercitazioni continuative così si chiamano e durante queste esercitazioni i militari si allenano e dormono in tenda. Quindi partono le ricerche ed effettivamente proprio come aveva affermato questo uomo anonimo c'è un corpo riverso a terra dietro questo chiosco. Di chi è questo corpo? Dunque Salvatore non si sa ancora Salvatore i genitori di Melania vengono contattati per cercare di riconoscerlo no? Quindi per sapere se fosse effettivamente Melania o meno. Salvatore però non si presenta a questa pineta perché non ce la fa ad andare è troppo per lui no? Eh lui non vuole andarci. Quindi ci vanno Raffaele Paciola e il fratello di Melania e purtroppo quando i due vanno lì confermano che quel corpo fosse quello della povera Melania. Quindi purtroppo Melania è stata uccisa. Viene in un primo momento contattato il proprietario del chiosco che però non c'entrava niente perché quel chiosco stava aperto solo nella stagione estiva però in compenso questo proprietario dichiara di conoscere bene i militari del reggimento Piceno perché erano dei clienti abitudinarili e addirittura questo proprietario dice che avesse servito l'istruttore quindi Salvatore Parolisi una marea di volte tantissime volte e adesso non so quanti minuti abbiamo datemi un tempo ma lo sai che stasera non c'è il contattore solito però io direi che possiamo eh dai allora teniamoci sui ritmi o cinque minuti adesso fai l'approfondimento e vediamo se riusciamo a fare il ponte poi per la prossima ok io vi avviso la conf cioè non scusa non è la confessione le dichiarazioni in loco di Parolisi le vorrei commentare per bene quindi quelle ce le teniamo per la prossima puntata ok allora vi racconto un attimo di quello che è stato trovato vi avviso per gli stomaci più deboli che questa sarà una parte abbastanza cruda abbastanza triste quindi insomma anche Dramattia decidi se vuoi ascoltare io sono tranquillissimo ok allora appunto c'è questo corpo che abbiamo detto è di Melania e è su Pino quindi per terra ci sono questi ag di Pino la testa presenta un'inclinazione verso la sinistra e sulla mandibola di Melania ci sono delle ciocche insanguinate i pantaloni e i collanti di Melania perché ricordiamo era abbastanza freddo quindi lei era vestita a strati e gli slip anche sono abbastati e quindi vedendo questa scena la prima cosa a cui si pensa è di una violenza sessuale lei aveva tutto abbastato ha i capelli raccolti con un mollettone ed ha il collo pieno di sangue purtroppo è anche piena di ferite da arma da taglio sul busto e sul petto ora come si presenta la scena lei ha la fede al dito sull'anulare ha un orecchino di madreperla ha un bracciale con scritta una dedica per Salvatore questo è un dettaglio che mi interessisce tantissimo sinceramente ha un orologio ha una catena d'oro quindi avendo trovato tutti questi preziosi sul corpo di Melania si esclude che qualcuno l'abbia aggredita per rubarle i gioielli perché se così fosse stato non avrebbe certamente avuto la fede e tutto quanto pare che chi avesse commesso il crimine fosse tornato in un secondo momento per infierire sul corpo esanime di Melania quindi pare fosse stato un delitto mosso da una certa rabbia del rancore dal disprezzo cioè in un primo momento non si capisce perché qualcuno fosse dovuto tornare per infierire e addirittura viene anche trovata una seringa di insulina vuota conficcata all'altezza del cuore inoltre sul corpo di Melania ci sono anche dei tagli sulle gambe nell'interno della coscia ci sono delle incisioni in particolare c'è una svastica detto proprio senza mezzi termini e si pensa che appunto tutti questi elementi contrastanti la seringa di insulina i tagli d'arma da fuoco le seri d'arma da taglio le incisioni insomma non si capisce bene l'avere infierito quindi l'essere tornati perché ricordiamo è morta per appunto per le coltellate sì ci sono tanti elementi però che confondono sì sì è morta per le coltellate e questo sono riusciti a capirlo senza ombra di dubbio che anche le incisioni nella coscia sono state fatte il giorno dopo quindi in un secondo momento esatto riescono credo a stabilire sempre con metodi scientifici anche che forse che era stato abbassato i pantaloni anche quello post-mortem sì però date tutte queste cose chiediamo a Mattia mentre giovane fresca a meno che in questi giorni non si sia andato a leggere tutta la storia di Melania assolutamente no tu da questi elementi qua quindi da come da quello che ha descritto Eike di quello che ha trovato che hanno trovato sul corpo di come era il corpo cioè cosa ti fa pensare allora mi pare di aver sentito da te dire che confonde perché da come me lo avete raccontato non vedrei uno come Parolisi a avere un raptus del genere io non ce lo vedo poi se aveva dei problemi che non abbiamo menzionato non lo so potrebbe anche averlo fatto però a me pare strano molto strano è molto strano capisco capisco è chiaro perché comunque appunto gli elementi sono tanti e sono confusionari chiaramente slip abbassati quindi probabile violenza sessuale incisioni su il corpo e quindi boh un rito qualcuno che sta facendo qualcosa di satanico di strano e quindi c'è anche quell'elemento la siringa di insulina quindi siringhe poi vengono ritrovati anche nei dintorni dei cappucci di siringhe eccetera quindi che fossero state delle persone che facevano uso di sostanza che l'hanno aggredita però anche lì però se uno ti aggredisce perché lo fa perché ti vuole rubare le cose però lei aveva le sue cose le sue preziosi addosso quindi è tutto messa lì esatto poi c'erano delle impronte digitali sulla siringa che erano di un uomo e di una donna tossicodipendenti ma che probabilmente hanno infatti la pista l'hanno subito abbandonata perché probabilmente appunto qualcuno con i guanti ha preso la siringa da dove l'ha trovata nel bosco e l'ha messa lì esatto è tutto un depistaggio allora proseguiamo con i dettagli che ci piacciono finché possiamo si stabilisce che al momento del ritrovamento Melania si è morta da circa due giorni quindi i conti tornano ok due giorni dopo viene dalla scomparsa viene ritrovato il corpo attorno al corpo di Melania oltre a questo sangue c'è anche un cerchio di 25 cm di diametro su cui sono posati appunto questi cappucci di siringa e ci sono anche accanto dei lacce emostatici vicino viene ritrovato il Samsung di Melania con dentro la sim quindi finalmente abbiamo il telefono di Melania viene ritrovato anche un accendino bicca con sopra del sangue e c'è anche lì dentro una boccetta d'acqua chiusa vicino alla scena del crimine ci sono anche dei segni di ruote di una piccola vettura che però non vengono analizzati per lo meno da quel che so io non verranno presi in considerazione viene anche trovato uno scontrino risalente al 18 aprile di un negozio di alimentari sempre nei dintorni e nelle tasche di Melania vengono ritrovate delle monetine da pochi centesimi che certamente non sarebbero mai bastati per comprare quel benedetto caffè che Salvatore diceva doveva prenderli sono tantissimi elementi sono tantissimi elementi infatti è un caso abbastanza complicato non ti sembrano troppi infatti quello che dicevo nonostante la soluzione sia palese non servono a niente lui potrebbe essere passato al mercatino dell'usato comprato quattro cose e le ha buttate lì sopra me lo immagino e infatti in linguaggio tecnico criminologo questa cosa ha un nome posso dirlo Erika o vuoi dirlo dillo dillo e si chiama staging sì cioè capiscono abbastanza in fretta che ovviamente la scena è stata è stato fatto uno staging quindi è stata modificata aggiunti elementi per depistare e manomesso sì esatto proprio manomesso appositamente più elementi per depistare fondamentalmente depistare confondere eccetera ma c'è anche un altro elemento addirittura ad un certo punto si pensa che Melania potesse essere stata vittima di un serial killer perché poco lontano erano state ritrovate le ossa di un'altra donna che era stata uccisa e sì adesso a me sfugge il nome della donna che era stata uccisa lì nei paraggi però pare fosse anche una donna che somigliava a Melania e quindi valutando un po' tutte le possibilità a un certo punto si pensa che ci fosse effettivamente un serial killer che aveva preso di mira anche lei addirittura si valuta anche la possibilità che Melania essendo molto bella avesse potuto essere vittima dell'ossessione di qualche persona poco stabile di qualche uomo che si era ossessionato però sono tutte piste che poi decadono vengono sentiti degli eventuali corteggiatori sicuramente Melania aveva qualcuno che gli faceva un po' il filo però fortunatamente per questi uomini aveva degli alibi assolutamente di ferro e quindi non c'entravano niente decadono anche queste piste qua ok mi fermerei qua sì esatto fermiamoci qui così poi dal prossimo episodio ripartiamo dal momento in cui viene comunicato a Parolisi questa notizia sì esattamente pensavo se potesse salvare sulla scena del crimine ma ci ho sperato dai almeno lì però no in che senso salvare nel senso che almeno non facesse casini pure sulla scena del crimine invece l'avevamo detto che sarebbe peggiorato infatti è vero che è grande quest'uomo è vero è vero ci sono delle chicche ancora in arrivo che saranno i miei meme del canale questi sappiatelo ok allora io la terminiamo qua io sono Silvia tra poco vado a letto anzi in verità sono già a letto però non ho ancora il pigiama quindi auguro la buonanotte a tutti e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia ringrazio te Erika per il tempo e ringrazio te Mattia per le domande gli interventi e tutta la parte tecnica se posso permettermi seguiteci su tutti i social su instagram su tiktok su youtube sia quello del canale sia il mio tia productions e abbiamo altri social non mi pare in ogni caso seguiteci ovunque seguiteci da tutte le parti e scusateci se stasera siamo stati un po' più confusionari del solito ma siamo davvero stanchi ma stanchissimi la M di merda mi rimarrà sempre la M di merda non volevo non volevo proprio dirlo eppure l'ho detto e vabbè comunque ci stava scusate ci stava alla prossima ciao alla prossima ciao ciao ciao